A Sermide si pattina sul ghiaccio. Presenti i rappresentanti dei comuni di Sermide, Ostiglia, Quistello e Suzzara, è stato aperto l'impianto di pattinaggio sul ghiaccio allestito in piazzetta Gonzaga. La novità all'insegna del motto, un inverno sul ghiaccio, ha entusiasmato i giovani che hanno subito risposto in gran numero. Ottimista il presidente della Proloco, Ingegner Varini. La Proloco, assieme all'amministrazione comunale, ha pensato di fare qualcosa di nuovo per Sermide, di portare una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Nessuno pensava che a Sermide si potesse pattinare sul ghiaccio. Ci siamo riusciti e quanto sembra, dall'inaugurazione e dall'entusiasmo dei giovani, sembra che sia un successo. Io auspico che resti, perché diciamo che andrà avanti fino al 21 novembre, poi a rotazione cambieremo le date per l'anno prossimo e cerchiamo di fare una tradizione. Se riusciremo, bene, cerchiamo di far divertire i giovani di Sermide e del nostro circondario. Un gruppo di giovani si occupa di garantire i necessari servizi, tra i quali il noleggio dei pattini. L'impianto rimarrà a Sermide fino al 21 novembre, con aperture pomeridiane e serali. Si sposterà quindi a Ostiglia, Quistello e Suzzara.